I crispedi calabresi ti faranno impazzire e se vuoi prepararle anche tu guarda il video fino alla fine. In una ciotola versa la farina e le patate lesse, dopodiché aggiungi il lievito di birra sciolto in poca acqua. Inizia a impastare bene il tutto e non appena il lievito si sarà sciolto aggiungi il sale. A questo punto continua a impastare aggiungendo anche dell'acqua. Se l'impasto risulta essere troppo appiccicoso non preoccuparti, aggiungi poca farina fino ad ottenere un impasto liscio, compatto e omogeneo. Forma una palla con le mani e riponilo nella ciotola a lievitare per almeno un paio d'ore in luogo caldo. Quando l'impasto sarà lievitato, ungiti le mani e fai scaldare dell'olio di semi in una padella. Forma i crispedi così come vedi nel video e tuffale nell'olio bollente. Friggi tutti i crispedi fino a che non saranno ben dorate su entrambi i lati. Bagnale con l'olio durante la cottura e rigirale spesso in modo da favorire una doratura uniforme. Toglile dall'olio quando saranno pronte e ponile su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. E tadan! Eccole pronte! Guarda quanto sono golose! Ti sono piaciute? Lasciami un commento! Carabillero! Grazie a tutti.